Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di piante contro zombie. In questa puntata affronteremo il secondo livello dei minigiochi, il bullying alle noci. Questo minigioco può apparire semplice, e dopo tutto lo è, ve lo assicuro. Se vi ricordate lo avevamo già incontrato nei livelli dell'avventura, ed è un modo carino e divertente per riproporcelo. Innanzitutto sappiamo che il nostro obiettivo è di eliminare gli zombie utilizzando come palle da bullying i muri di noce. Il nostro scopo è far rimbalzare più volte i muri di noce contro gli zombie. Vedete qua? Ho fatto rimbalzare il muro di noce tre volte e mi ha dato sempre più monete. Infatti più lo fate rimbalzare più vi darà monete, ed è anche un ottimo modo per guadagnare molti soldi. Gli arrivano zombie secchione, bah, cerchiamo di tirare qui il muro di noce esplosivo contro i due zombie secchione. Il problema secondo me sono anche gli zombie atleta, e anche gli zombie giornalaio come li chiamo io. Vedete, gli zombie atleta eviteranno le palle da bullying, ed è questa la cosa più problematica. Ma anche gli zombie con il giornale non sbagliano. Un colpo. Lì ci sono ben due zombie atleta, però dovrei riuscire ad eliminarlo? No, neanche uno. A volte il muro di noce finisce da... Porca miseria, ma perché non gira a destra? È una cosa allucinante. Dovrebbe andare dove voglio io, invece se ne vado a tutta altra parte. Non sono riuscita a colpire niente, è una cosa incredibile. Dai forza, benissimo! Tre rimbalzi fatti. Speriamo qua di colpirne almeno un altro. No, infatti. Cerchiamo di eliminare lo zombie secchione che si eliminerà dopo due colpi. Vabbè, essendo uno zombie molto resistente nell'avventura non poteva essere altrimenti. Benissimo. Uh, tre rimbalzi anche qua, perfetto. Qua ci sono due zombie normali, questa palla prende un altro zombie, segnaletico. Benissimo. Ah, io qua forse lancio una noce esplosiva, sa? Sì, sì, sì. Ha eliminato ben quattro zombie, ho fatto bene. Qua arrivano gli zombie atleta. Bah, maledetti. Perfetto, ho fatto sprecare il rimbalzo all'altro zombie atleta. Eliminiamo anche quest'altro. Bene, altro bullying di noci. Ah, no, mamma mia. Non ho preso neanche uno zombie. Forza. Mmm, non so se utilizzarlo. No. Lanciamo un altro muro di noci. Forza, forza. Uh! Speriamo di colpirne almeno uno. No. Fiasco più totale. Dai, vabbè, questo bullying colpirà molti nemici, sì, infatti. E addio, zombie secchione. Mmm. La situazione qua, ragazzi, diventa sempre più problematica. Non so se avete notato. Bene, ora lo evita. Forza. Eccolo qua, il mio muro di noci. Forza, fai straggio di zombie, mio caro. Ah, ah, un fiasco più totale anche qua. Eppure più ci sono zombie, più abbiamo possibilità di colpire più zombie. Forza, noce esplosiva, dai. Forza, muro di noci. Colpisce uno zombie secchione, perfetto. Poco male. Altro zombie, benissimo. Bah, qua, no. Direi di non utilizzarlo. Eh sì, vabbè, ragazzi, non abbiamo più alternative. Finché non ci vengono i muri di noce, non possiamo fare altrimenti. Benissimo. Oppla là. Mancano questi due zombie secchioni che mi preoccupano altamente. Una moneta, perfetto. Oppla. Devo eliminare questi zombie al più presto. Forza, noce esplosiva. Benissimo. Mancano questo zombie secchione, questo ex zombie secchione e questo zombie segnaletico. Speriamo di fare in fretta. Dai, 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 dai. Bah. Vergognasi. Tanto non potevo fare altrimenti. Forza. Uh, ce l'ho fatta. Forza, facciamo un bello strike. Insomma. Continuiamo così. Forza, ragazzi. Bene. Wow, guardate qua quanti rimbalzi ha fatto. Wow. Finalmente sta iniziando a fare molti rimbalzi. Noce esplosiva. Benissimo. Muro di noce. Benissimo. Anche qua. Benissimo. Abbiamo eliminato anche lo zombie giornalaio, come lo chiamo io. Anche se impropriamente. Forza. Oh, perfetto. Due zombie atleta in uno. Continuiamo qua. Hmm. Addio zombie atleta. Wow. Oh, le cose stanno andando decisamente meglio. Tanto manca ancora un'ondata. Dovremmo farcela, dai. Muro di noce. L'importante è non perdere tagliaerba. Oh, lì c'è uno zombie secchione che mi preoccupa. Forza. Dai, forza. Piante, mi fido di voi. Dai, me ne serve un'altra. Benissimo. Colpiamo lo zombie segnaletico. E adesso lo zombie atleta. Oh, perfetto. Le cose stanno girando dalla nostra parte. Hmm. Benissimo. Anche lo zombie segnaletico è fuori. Ah, eliminiamo questo gruppetto di zombie. Avete visto quanti zombie secchioni ci sono? Mannaggia. Ovviamente tanti. Bene. Dai, forza, forza, forza. Arriva. Benissimo. Forse qua, forse è meglio utilizzarla. Una noce esplosiva. Hmm, bene. Ora concentriamoci contro questo zombie secchione. Dai ragazzi, abbiamo ben quattro noci esplosive di riserva, quindi ce la potremo fare. Forza. Continuiamo così. Mancano pochi zombie. D'altronde. Dai, dai, dai. Benissimo. Eliminiamo questi zombie segnaletici. Oh, ma ci sono sempre i zombie secchioni che mi preoccupano. Direi di mirare a questi. Benissimo. Oh, ho fatto veramente... Un pandemonio. Altri zombie in arrivo. Ne ho colpito uno. Oh, lo zombie atleta è quello più pericoloso. Va, mandiamo una noce contro di questi ultimi. Perfetto. Almeno adesso non hanno più l'asta. Opla. Forza, altra noce. Hmm. Ah, perfetto. Pensavo che non andasse a segno. Hmm, mancano pochi zombie comunque, sì. Lanciamolo qua. Benissimo. Adesso mancano questi zombie secchioni e questi zombie normali. Forza, zombie atleta. Perfetto. È caduta nella mia trappola. Attenzione. Benissimo. Gli zombie scioccamente sono riusciti a saltare. La mia noce. Forza, forza. Altro muro noce. Benissimo. Forza, forza. Lo zombie giornalaio si è incavolato. Sì, sono riuscito a colpirlo. Che fortuna. Dannate noci esplosive. Ne vorrei conservare per l'orda finale. Ah, ma siamo arrivati all'orda finale, ragazzi. Allora ce l'abbiamo fatta. Ma non utilizzerò il taglierba. Non ce l'ho fatta. Per un pelo. Adesso, ragazzi, utilizziamo le noci esplosive. Forza. Benissimo. E abbiamo completato anche questo minigioco. Almeno quasi. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Vittoria. Perfetto, ragazzi. E abbiamo completato anche bullying alle noci. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta e abbiamo completato anche il secondo minigioco. Allora, ragazzi, per questa puntata di piante contro zombie è tutto. Ci vedremo nella prossima puntata. Ciao a tutti.